Quell'emendamento è stato scritto probabilmente di notte, probabilmente tanto per dimostrare che si è fatto qualcosa, ma è tecnicamente inapplicabile e spiego perché. Fino a che esiste una legge che dice che le camere di commercio sono 60 e che in Sicilia ne spettano 4, e questo dice la legge, mi può star bene, mi può star male, ma questa è la legge dello Stato. A questo punto, se veramente si facesse quello che qualcuno continua a ripetere, che le tre città metropolitane devono stare da soli, il risultato sarebbero tre camere di commercio sole, Palermo, Catania e Messina, e una camera di commercio che rinunisce le altre sei province, che ti devo dire che è demenziale? La demenza, grazie al cielo, in Sicilia non è diffusa e quindi i governanti regionali non potranno che dire di no, se poi qualcuno sogna di dividersi, ma posso anche dargli un consiglio, portate avanti la battaglia perché le camere di commercio possano diventare 5, 6, dopodiché vedremo, primo, se possono sopravvivere, secondo, vedremo anche se c'è la volontà veramente di staccarsi, perché ad esempio quando io parlo con gli amici di Ragusa, mi sento dire, ma noi se dobbiamo scegliere preferiamo stare con Catania, e basta vedere il movimento di camion per capire il perché, no? Che sono due economie che vivono in simbiosi, questa è la parte più forte nell'aspetto produttivo, manageriale e coso, la parte di Catania è quella più forte per quanto riguarda le location, trasporti, comunicazione, eccetera, sono tecnicamente due anelli di una stessa catena, Siracusa è leggermente più staccata, e ce lo dimostro una cosa, alcune cose che sono andate spontaneamente, tipo la Val di Noto, in realtà sono già un primo esempio di unificazione delle tre province, è inutile che ci pigliamo in giro, il mondo va in quella direzione, pensare che i confini li determini una norma geografica è folle, Lentini non si sente di Siracusa, si sente di Catania, Licodì e Ubea non si sente di Catania, si sente di Ragusa, infatti avevano anche tentato di entrare in brogela, vuole a tutti i costi passare con Catania, allora è inutile che continuiamo a tenere muri contro muri, la regione intanto deve dire, perché la regione si è assunto una responsabilità prevista dalla normativa, di dire siamo noi, chiederemo se si può riorganizzare in che modo, e io dico già che se la regione segue questo indirizzo, l'unica soluzione possibile, alternativa a quella che c'è oggi, è quella di riunire le sei province e fare un'unica Camera di Commercio, che mi pare che nessuno voglia, già non l'ha voluta i cinque, figuriamoci se ci aggiungiamo Enna, tenendo anche conto, che nessuno può far finta di non sapere, che Camere di Commercio economicamente sane ne esistono due sole, delle vecchie, Ragusa prima, Catania seconda, tutte le altre sono messe male, chi male, chi malissimo, chi molto male, quindi quando mettiamo assieme delle debolezze, probabilmente facciamo una debolezza più forte. Questo Covid ci ha messo in difficoltà, voi volete vendere l'aeroporto, vendete anche Comiso, come siamo combinati con queste Camere di Commercio, che si spezzettano anche con la proprietà dell'aeroporto? Ma guardi, la proprietà dell'aeroporto tecnicamente non cambia niente, preferisco chiamare anche quello del sud-est visto che c'è Comiso, di fatti si sta lavorando per fare la rete che sarà anche una soluzione. Molto semplice, se anche ci dovessimo dividere, rimarremmo sempre con Catania che ha i tre ottavi, Ragusa che ha un ottavo, Siracusa che ha un ottavo. E non ci vuole a quel punto unità di intenti. Ma se qualcuno poi dice io sono in grado di andare avanti con le pensioni, che non dimentichiamo sono il vero problema, senza vendere l'aeroporto ce lo fa sapere e ne parliamo. Ma quello che mi stupisce, non vorrei che qualcuno invece volesse ritornare al vecchio tentativo di cui lei non ha mai sentito parlare in termini negativi, quando l'aeroporto si stava privatizzando facendo entrare un privato che non versava una lira ai soci, ma li versava in aumento di capitale. Beh, sa, questi sono trucchetti che forse possono funzionare in altre zone d'Italia. Voglio vedere l'aumento che funziona. No, era già in borsa, posso dire. È stato il primo atto che la mia amministrazione ha revocato. C'era già l'incarico per vendere in borsa, per fare un aumento di capitale al 30% in borsa, che significava che tutti noi perdevamo il 30% del valore dell'aeroporto e il socio che entrava metteva i soldi in una cosa che era già in parte sua, che è una cosa folle, folle. E poi è anche difficile da controllare. Ma poi sappiamo benissimo che chi arriva al 30% fa un giochetto, si compra un altro 20% e è del padrone. Noi vogliamo vendere invece o 51% o 70% e chi lo compra deve versare. C'è davvero chi lo compra, perché lei una fiera di due anni fa ha detto vale un miliardo. Allora io spero che valga di più. La gara lo dirà. Io ho detto che sotto il miliardo io riunirò tutti gli organi e gli dirò che io personalmente non venderei, con grande franchezza. Posso dirle che abbiamo incontrato i più grossi player mondiali, nessuno mi ha detto che sono scemo. Qualcuno ha provato a dirmi 800-850, dico certo ma vendiamo la maggioranza, più 15% vedi che ci siamo. Ma fra l'altro il Covid a noi per certi versi ci ha dato valore, eravamo il sesto aeroporto d'Italia quando è scoppiato il Covid, ora siamo il terzo. Dico di più, siamo l'unico aeroporto d'Italia che nel mese di luglio-agosto ha fatto di fatto gli stessi numeri del 2019. Che impressionante. Spieghiamo perché cresciamo, perché noi senza aeroporto non andiamo a nessuna parte. Perché noi purtroppo, qui devo dire, purtroppo non abbiamo alternativa all'aereo. Quindi noi 6 milioni di passeggeri li facciamo da soli, gli altri no, gli altri no. Quindi siamo costretti. Perché da Venezia in qualche modo arriva avuto. Venezia è crollata perché viveva sui aerei stranieri. Ma guardi c'è un fatto che la deve far pensare. In pieno Covid, una delle più belle compagnie aeree europee, che è la Whits Air, apre una base a Catania in pieno Covid e ancora in Covid la rafforza mettendo il terzo aereo stabile. È andata a vedere che linee sta facendo. Ci sta unendo col mondo la Whits Air. Allora dico, i tecnici della Whits Air, che è certamente oggi l'azienda più florida europea, meglio di Ryanair, meglio di tutto il resto, Secondo voi sono cretini o hanno capito che Catania ha una potenzialità esplosiva? Perfetto. Allora a questo punto quale saranno gli step? Ce li dica step, step velocemente. Una settimana fa è stata nominata la commissione che deve valutare le disponibilità a fare il venditore. Perché il venditore lo farà un grande istituto bancario. Sono arrivate mi pare 7-8 buste. La commissione è preseduta da un magistrato di altissimo livello e di bellissima fama di Catania. Nei prossimi giorni individueranno il soggetto vincitore. A questo punto gli affideremo la vendita dell'aeroporto. C'hanno i soldi? No, lui farà la gara. Poi ci vogliono i soldi per... I soldi ci sono. Solo l'imbarazzo della scelta. Meglio così. Grazie Presidente. Grazie a tutti.